Io sto bene qui. I like this place. Because every people come. Every people work, work. Lavoro un'ora in più, ma però con calma. E' quello che fanno gli altri. In questa strada, se tu vai dritto, in linea d'aria, cioè in linea retta, a 800 metri c'è il mare. Ma è il porto, non si può andare, perché è un porto commerciale. E vengono tutte le navi, quindi è chiuso. Per andare al mare, dove vanno tutti i turisti, sono 10 km, Marina di Ravenna, Punta Marina, tutte ci sono, tutte in fila. E' molto bello, molto organizzato. Io ho 70 anni, 70 anni. Io vivi in Ravenna, 70 anni. Io sono qui, perché sono vecchio. Il mio lavoro è elettrico. Io ho lavorato in Brasile, 2 anni. Europa, 4 anni. Norte Africa, 3 anni. Ho lavorato per Enel. Sono in pensione, sono qui con mia moglie, ma è il figlio, è il mio figlio. I am here only afternoon. Abito 1 km, 1 km, 1 km e mezzo, 1 km e half. Vengo in bicicletta, bicycle. Allora, il Romagnolo, questa è una città romagnola. Il Romagnolo ha i pantaloni rotti, ma il portafoglio pieno. Too much money. Il ferrarese, che sarebbe la proficità di Ferrara, ha i pantaloni nuovi. Portafoglio vuoto. No, no, no money. Il different system of life. Ok, basta. Va bene? Ok, basta. Grazie a tutti.